Quando scrivi una storia così, se non sai già che finisce così, come la scrivi? Quindi sì, il finale è dentro la storia, in qualche modo. Era proprio nelle prime due righe dell'idea. Nel pitch, diciamo. L'idea è proprio una ragazza, una ragazza che ha avuto Antonio, un giorno stavamo insieme a Vito e Simone, stavamo alla Palantir a pensare di cercare di avere un'idea di un film da fare usando gli effetti, quindi poi in realtà nasce pure da questo l'idea. Antonio arriva dicendo proprio così, c'è una stanza buia, c'è un interprete che parla con un signore che parla cinese e a un certo punto lui si accende e scopre che è un alieno. Pensa che è buono e poi scopre pure che è cattivo. Diciamo che brevemente l'idea era un po' questa. E da lì poi siamo partiti e abbiamo scritto questa storia.